La scelta di un telefonino ormai è diventata anche una questione di status e di percezione. Basta andare su Facebook per trovare schiere di utenti che combattono tra di loro sulla scelta di Android piuttosto che iOS. Le persone tendono sempre di più a polarizzarsi in gruppi che rifiutano di prendere in esame le argomentazioni della controparte. Alla base di questi scontri, molto spesso, c'è tutta una serie di preconcetti che adesso andrò a statare. iOS è per ricchi, mentre Android è per i presenti. Assolutamente falso. iOS è sicuro, Android invece no. Se usi un cellulare Android sei costantemente monitorato da Google. Ma questa non è una questione che riguarda la sicurezza, è più che altro una questione che riguarda la privacy. Se installi ed utilizzi solo app scaricate da Google Play Store puoi stare assolutamente tranquillo. iOS è un sistema troppo chiuso. È vero che su un iPhone puoi far girare solo app approvate da Apple, ma è anche vero che ce ne sono talmente tante a disposizione che raramente ti ritroverai a non trovare un'app di cui hai bisogno. Ecco una breve lista di consigli. Tieni molto alla tua privacy? Scegli iOS. Hai un budget scarso? Scegli Android. Tieni molto alla facilità d'uso? Scegli iOS. Vuoi un telefono personalizzabile al 100%? Scegli Android. Vuoi un telefono molto sicuro? Scegli iOS. Sei un tipo un po' smanettone e vuoi far girare sul cellulare quello che ti pare? La scelta deve ricadere senza dubbio su Android. La scelta deve ricadere senza dubbio su Android.